Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo giallo, un mistero che coinvolge un commissario e i suoi rapporti con la memoria. La sua presenza sulla scena del crimine solleva domande sul suo coinvolgimento nel caso e sulla sua capacità di svolgere il proprio lavoro in modo obiettivo. Il lettore viene coinvolto nel tentativo di scoprire la verità dietro un incidente le circostanze che hanno portato alla presenza del commissario sul luogo del delitto. Il libro offre una storia avvincente e ricca di suspense che spinge il lettore a chiedersi se le apparenze siano davvero ciò che sembrano. Oltre a ciò esplora anche temi più ampi come la fragilità umana, l'autenticità delle persone e i segreti nascosti ed invita il lettore a esplorare la fragilità umana e a interrogarci sulle apparenze e sulla fiducia nelle relazioni interpersonali. La trama del libro Madre ed Ossa di Ilaria Tutti, edito da Longanesi, è la seguente Il commissario Teresa Battaglia ha perso davvero la sfida più grande di tutte contro la sua memoria? Sembra di sì. È questo che pensano i colleghi e chi le vuole bene. È questo che pensa anche Massimo Marini che dopo aver ricevuto una chiamata anonima si è precipitato in mezzo alle montagne, lì dove un feroce crimine potrebbe essere stato compiuto. Trova il cadavere di un ragazzo fra le braccia di Teresa. Massimo sa che quella è una scena del crimine e che il commissario Battaglia non dovrebbe trovarsi lì. Sa che ha compromesso il ritrovamento e ha alterato gli indizi, ma forse non è davvero così che stanno le cose. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cortesemente cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra inoltre la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale. Grazie e un caro saluto.